Le nuove frontiere della medicina rigenerativa si spingono sempre più avanti. Cellule staminali e gel piastrinico sono più di una semplice speranza. Oggi vogliamo addentrarci in questo affascinante mondo parlando proprio del gel piastrinico. E lo faremo con la dottoressa Anna Rughetti. Buonasera. Allora, che cos'è il gel piastrinico? Allora, diciamo intanto che la medicina rigenerativa rappresenta una branca della medicina assolutamente innovativa, di gran moda negli ultimi anni, come tutti sentiamo ogni giorno. Si basta soprattutto sull'utilizzo di cellule staminali e di gel piastrinico. Però, mentre le cellule staminali sono delle cellule immature, totipotenti, in grado di differenziarsi nei vari tessuti specifici, il gel piastrinico rappresenta un prodotto che utilizza delle cellule assolutamente mature, quali le piastrine, e che vengono iperconcentrate e utilizzate per uso locale. Quali sono le applicazioni principali del gel piastrinico? Diciamo che il gel piastrinico, se possiamo dire così, è nato alla fine degli anni 90, in ambito odontoiatrico, però, come possiamo prevedere, le piastrine, essendo ubiquitarie, perché veicolate dal circolo ematico, dal sangue, appunto in tutti i distretti dell'organismo, possono intervenire nella riparazione dei vari tessuti, dei più disparati tessuti dell'organismo. E quindi, praticamente, da queste prime applicazioni in ambito odontoiatrico, poi è stato utilizzato in ambito ortopedico per favorire la riparazione delle fratture, anche per favorire la riparazione nelle tendinopatie in ambito della medicina dello sport, e per favorire la riparazione delle lesioni cutanee croniche, cioè delle ferite croniche, che a volte datano da molti anni, da molto tempo, e che non presentano nessuna tendenza alla guarigione. Ci puoi spiegare come si prepara il gel piastrinico? Il gel piastrinico, diciamo che si prepara molto semplicemente da un prelievo di sangue, concentrando, poi lavorandolo questo sangue, concentrando le piastrine fino ad una concentrazione ottimale, che normalmente si aggira intorno a un milione, un milione e mezzo per microlitro, cioè circa 4-5 volte il valore di base del paziente stesso. Dico del paziente stesso perché per lo più, quasi esclusivamente, noi utilizziamo gel piastrinico di origine autologa, che significa che è dello stesso paziente che poi lo utilizzerà. Ecco, dottoressa, ma allora in quali casi si ricorre all'utilizzo di sangue da donatore? Benissimo, diciamo che in alcuni casi, trattandosi per esempio di pazienti in cattive condizioni generali, oppure pazienti che non hanno valori di piastrine basali o di emoglobina adeguati per poter sottoporsi a un prelievo di sangue, o pazienti che debbono sottoporsi a applicazioni ripetute di questo prodotto e quindi dovrebbero sottoporsi a più prelievi nel tempo, in questo caso, in questi casi, appunto, noi utilizziamo gel che deriva da donatore di sangue. Quali probabilità di guarigione ci sono con l'utilizzo di questo metodo? Allora, intanto, premetto che questo è un prodotto assolutamente interessante che non fa guarire il 100% delle lesioni, ma diciamo che in sinergia con altri prestiti terapeutici sicuramente favorisce sia la riparazione in termini di risultati proprio di guarigione e sia riducendo i tempi della guarigione stessa. Dottoressa, come vediamo dallo schermo ci sono degli esempi di ferite trattate con il gel piastrinico. Ci vuole spiegare come funziona? Sì, senz'altro. Questo è un caso di un paziente diabetico, si è reso conto di essere diabetico nel momento in cui il primo dito del piede destro, cioè l'alluce, è diventato via via sempre più necrotico, è stata fatta una diagnosi piuttosto tardiva di diabete, tanto che ha perso questo dito e è stato amputato, come potete vedere. La guarigione di questa ferita era molto difficoltosa, lenta, la ferita era torpida e quindi alla fine è stato trattato con il suo stesso gel piastrini, derivato dal suo sangue, con nove applicazioni di gel piastrinico mediamente una volta a settimana fino a conseguire la guarigione completa, come potete vedere in basso a destra. L'immagine che si può vedere in alto, che è un po' girata, sotto sopra, è quella del secondo accesso di questo paziente, perché al primo accesso non sono stato in grado, non avevo a disposizione, diciamo, una macchina fotografica per fare la foto. Però il paziente ha subito avuto un sollievo in termini di dolore e la guarigione della ferita è stata molto più veloce. La ferita datava già da 3-4 mesi. Dottoressa, ma tutte le ferite rispondono allo stesso modo? No, ci sono ferite di diversissima eziologia, cioè di diversissima origine fra di loro. Le cause ovviamente vanno sempre trattate contestualmente con la lesione. Ci sono ferite di origine diabetica, di origine, diciamo, traumatica, ferite da interventi chirurgici che non guariscono facilmente, da vasculiti e anche da insufficienza vascolare in genere. Diciamo che quelle che più rispondono sono senz'altro, quelle di origine traumatica, ma anche le altre si avvalgono molto bene di questo trattamento. Anche in particolare, in termini di dolore, il paziente trova un sollievo quasi immediato. Dottoressa, ma il gel piastrinico può essere preparato soltanto in ospedale o ci sono centri autorizzati a farlo? La normativa vigente prevede che la produzione e la conservazione del gel piastrinico venga fatta esclusivamente nei centri trasfusionali, cioè negli ospedali, nella struttura sanitaria pubblica. Questo per garantire al massimo la tracciabilità e la sicurezza trasfusionale. Questa sicurezza arriva dal fatto che questo prodotto segue gli stessi criteri per essere prodotto che vengono applicati per preparare la trasfusione di sangue. Questa è un'ottima garanzia per chi lo riceverà. Il secondo motivo di sicurezza è senz'altro l'origine autologa, quasi esclusivamente autologa in tutti i casi. Ancora volevo dire che, mi diceva, per quanto riguarda la normativa, diciamo che purtroppo a livello regionale c'è una grande disparità fra le varie regioni in termini normativi, per cui alcune regioni come Toscana, Umbria, Veneto, Piemonte, Sicilia hanno già redatto una legge regionale che disciplina l'uso di questi prodotti. Purtroppo altre regioni, fra cui l'Abruzzo, siamo ancora un pochino indietro. Ma mi auguro vivamente che presto si raggiunga un'uniformità, diciamo, a livello proprio nazionale, in modo che ci sia un utilizzo, diciamo, più controllato e più chiaro. Quali sono, dottoressa, le prospettive future dell'utilizzo del gel piastrinico? Essendo appunto il sangue e le piastrine veicolate in tutto l'organismo, in tutti i distretti dell'organismo, gli ambiti applicativi sono in continuo aumento. Attualmente sono particolarmente interessanti questi prodotti per quanto riguarda la medicina dello sport, ma anche la chirurgia plastica e ricostruttiva, anche, e la medicina estetica. Grazie, dottoressa. Grazie a lei, buonasera. E arrivederci. Buonasera. Noi ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa. Torniamo tra pochissimo per affrontare un altro argomento.